prevedi anche tu di mangiare più del solito durante il periodo delle feste fra cene panettoni a colazione voglia di festa mangiare in eccesso è fin troppo facile sì ma io starò a digiuno tutto il giorno per potermi abbuffare al cenone così non farai altro che squilibrare il metabolismo la glicemia e farti venire mal di stomaco ecco cinque cose da fare per restare in forma anche con qualche sgarro così durante le feste non perderete né la bussola né la linea 1 mangia smart nei giorni normali invece di abbuffarti e poi stare a digiuno durante le feste fai pasti piccoli ma frequenti con cibi leggeri e soprattutto a orari irregolari fai attenzione di avere digerito bene lo spuntino precedente prima di passare al successivo 2 mantieni gli allenamenti il giorno di natale o santo stefano avresti dovuto fare il tuo allenamento va bene non andare in palestra ma almeno allenati a casa il movimento aiuta a bruciare le calorie dei pasti in eccesso mantiene alto il metabolismo e ci dà la carica per tutta la giornata 3 ricordati di bere acqua lo avete notato anche voi durante le feste sulla tavola si tende a ridurre l'acqua e aumentare le bibite e l'alcol tra l'altro con gli snack o i pasti troppo salati o saporiti c'è il rischio di aumentare la ritenzione idrica quindi brindisi a parte ricordati di bere tanta acqua e anche tisane sgonfianti come quella al finocchio 4 riposati di più nel periodo natalizio i festeggiamenti e le nottate si susseguono una dopo l'altra cerca comunque di dormire almeno 8 ore per notte se non ce la fai ritagliati un piccolo riposino durante il giorno l'eccesso di vita frenetica può causare un aumento del cortisolo l'ormone dello stress quindi approfitta del periodo per dormire qualche ora in più non stai perdendo tempo ma guadagnando salute 5 passeggia e respira ho detto riposare di più non poltrire tutto il giorno sul divano mangiare troppo e fare poco movimento fa solo ingrassare prima che venga buio macina qualche chilometro al mattino nel primo pomeriggio e respira bene farà bene alla linea e all'umore le feste quest'anno cerchiamo di renderle ancora più trendy e sane se ami anche tu la salute naturale metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente ciao